Dopo l'anteprima della maledizione della mezzarana, in tanti mi avete chiesto di portare altri giochi italiani nel canale e chi sono io per negarvi un po' di sano patriottismo itali. Qualche mese fa sul subreddit Italy Games ho trovato un post degli sviluppatori d'Hub Games che stanno preparando un gioco molto particolare, un roguelite a metà tra il medievale fantasy e il fantascientifico che mi ha interessato molto per via della sua premessa decisamente fuori dal comune. Diamo un'occhiata a Medivalian, il gioco d'esordio dei ragazzi di Dube Games. Prima di parlare di Medivalian io vi ricordo che su questo canale trattiamo di tutto quello che ha a che fare con l'industria videoludica quindi anteprime, recensioni, opinioni, news e quant'altro. Quindi non dimenticatevi di iscrivervi al canale per non perdere i prossimi video e lasciare un like. Inoltre potete anche seguirmi sui social dove è tratto le ultime gaming news e su Twitch dove potrete interagire con me. Trovate tutti i link nella descrizione. Ma ora torniamo all'anteprima. Medivalian è ambientato in un mondo medievale fantasy che ha appena subito un'invasione aliena. Il nostro protagonista, Jerin, supportato dal mago Wulfrid, dovrà esplorare questo mondo devastato da creature strane e robot per combattere gli invasori. Ogni volta che veniamo sconfitti, Wulfrid teletrasporta se stesso e il nostro eroe in una linea temporale alternativa in cui potrà ritentare l'impresa. Questa premessa si traduce in un roguelite con meccaniche da twin stick shooter. Jerin inizierà ogni run con la sua fida balestra, una trappola per orsi e delle bombe. Esplorando il mondo di gioco e sconfiggendo i nemici, potrà trovare nuovi strumenti come arche compositi, balestra ripetizioni o esplosivi alchemici, che lo aiuteranno nel combattimento o persino manufatti alieni come fucili laser o onde elettromagnetiche. I manufatti alieni in particolare sono decisamente potenti, ma utilizzano energia, una risorsa limitata che si accumula durante le fasi di combattimento. Quindi il nostro Jerin non potrà farci affidamento per tutta la durata della run. Il gioco presenta un'ottima varietà, grazie anche al sistema di selezione del percorso a nodi, sicuramente ispirato da Slade Spire. I nodi che presentano combattimento sono strutturati in un'ambientazione costruita proceduralmente, divisa in varie aree collegate da corridoi. In ogni area bisognerà sconfiggere i nemici presenti per poter passare alla prossima, fino ad arrivare al portale d'uscita. Durante il percorso si potranno incontrare vari personaggi, ad esempio un cartomante che vi proporrà una lettura, o un pozzo di desideri che potrebbe concedere delle benedizioni a seconda di quanto denaro investirete. Il combattimento in sé è frenetico al punto giusto. Bisognerà capire in fretta il pattern dei nemici per trarre vantaggio dai momenti in cui sono scoperti e dai punti ciechi della mappa, per aver ragione di loro. I controlli sistema di schivata potrebbero essere un po' più fluidi, ma nel complesso l'esperienza è decisamente positiva. Una volta completato un evento, come detto prima, si dovrà scegliere il prossimo nodo a cui approcciarsi. Questi potranno essere di vari tipi, mercanti, eventi, combattimenti e quant'altro saranno selezionabili. Ma non è nei nodi in sé che Medivalian sfoggia uno delle sue feature più interessanti, ma nella possibilità di manipolarli. Durante il gameplay si potranno trovare delle schegge di fato, che sarà possibile usare direttamente sui nodi della mappa, per poter cambiarne alcuni tratti. Ad esempio, potremo usare un frammento per aumentare la rarità dei loot in quel nodo, o per ridurre i prezzi di un mercante, o addirittura per convertire il nodo in un incontro di tipo completamente diverso. Decisamente una funzionalità che giova alla varietà del gameplay. Il comparto tecnico non fa gridare al miracolo, ma è comunque molto godibile. Una grafica low poly, ben curata e dettagliata al giusto, accompagna una colonna sonora apprezzabile, anche se non particolarmente varia. Decisamente un buon inizio. Al momento Medivalian si trova ancora nello stato alpha della build, e perciò come prevedibile c'è molto da migliorare. Mettendo da parte i bug occasionali che è licito aspettarsi in un gioco early access, Medivalian presenta ancora poca varietà, sia di ambientazioni che di nemici. Dopo alcune run ci si troverà presto a notare il ripetersi di molti eventi, che ci verranno riproposti a più riprese. Fortunatamente gli sviluppatori hanno dimostrato di avere tutta l'intenzione di dedicarsi seriamente all'evoluzione del titolo. Ho comprato il gioco a febbraio, e l'ho rigiocato in questi giorni per preparare quest'anteprima, e le migliorie sono saltate subito all'occhio. Ad esempio, quando ho giocato mesi fa, ero molto frustrato dalla quasi completa inutilità della trappola per orsi, e dal fatto che lasciando l'area durante un combattimento, i nemici si resettassero. Molto irritante, dato che il primo istinto di qualsiasi giocatore è attirare i nemici nel corridoio tra due aree. Con la build attuale, la trappola per orsi ha un'area d'effetto a cono che la rende molto più utilizzabile, e durante i combattimenti le aree vengono sigillate per evitare che il giocatore ne esca per errore. Problemi ce ne sono ancora. Ad esempio, le bombe una volta lanciate sembrano voler andare dove pare a loro. Ma di sicuro Dube Games ha dimostrato di lavorare attivamente al miglioramento del progetto. In conclusione, Medievalian si presenta come un roguelite molto promettente, che mette sul tavolo alcune meccaniche molto interessanti, ed è sicuramente un titolo da tenere d'occhio durante il suo percorso in reaccess. Sono sempre felice di parlare di giochi italiani, il nostro base dovrebbe decisamente prestare più attenzione al talento degli sviluppatori italiani di gaming. Io spero di fare la mia parte in tal senso, perché ho intenzione di tenere drizzate le orecchie e portare tanti altri giochi italiani sul canale. Anzi, se siete a conoscenza di qualche gioco indie italiano di cui vorreste sapere di più o che volete consigliare, scrivetemelo nei commenti. Io li leggo tutti. Se Medievalian intanto vi interessa e volete contribuire alla campagna Early Access, trovate il link di Steam in descrizione e potete acquistarlo per 16,99€. Inoltre, se il video vi è piaciuto, questo è il momento adatto per cliccare l'iconcina col pollice in su. Fidatevi, aiuta molto. Per oggi è tutto ragazzi, non dimenticatevi di seguirmi sui social, dai link in descrizione e anche su Twitch. Intanto grazie per aver visto il video e come sempre, keep on playing. Ciao!